E' la ripartenza ormai in vista del 4 maggio il tema al centro del dibattito in queste giornate. La fase 2 e i suoi criteri che ci accompagneranno a data da destinarsi si compone di tante tessere, un mosaico complesso in cui vita privata e lavorativa si mescolano inevitabilmente. Ma se per alcuni ambiti i contorni e le strade da percorrere sono più chiari e delineati, vedi industria e sicurezza sul posto di lavoro, per diversi settori pronti o meno a ripartire, le cose sono un po' diverse. Ci riferiamo al settore della ristorazione, il quale nel marasma di ipotesi maturate, condizioni e limitazioni da rispettare ha molte incognite davanti a sé. Varrà la pena di stare aperti, lo spazio utilizzabile sarà un giusto compromesso tra costi e ricavi e come risponderà la clientela a queste nuove condizioni di servizio. Nel frattempo che queste nebole si dissolvano però in molti hanno preso il cuore in mano, soprattutto in questo mese notoriamente di fatto di giornate da tutto esaurito e hanno cercato di ammortizzare le perdite raggiungendo a casa i propri clienti. Agriturismi, trattorie e ristoranti hanno così inventato un nuovo modo di fare ristorazione e tra le tante offerte e proposte, un po' per tutte le tasche, ci sono anche tante offerte di tipologie di menù, compreso quello per gli amanti della cucina di ricerca e gourmet. Sì, abbiamo ideato questo pacchetto che comprende una serie di proposte dall'antipasto al dolce con anche dei piccoli stuzzichini per soleticare l'idea che proponiamo anche nel nostro ristorante, cercare di creare dei gusti e adesso arriva la proposta da casa che abbiamo realizzato con vari elementi. I clienti rispondono bene? È una cosa nuova, quindi dobbiamo ancora adattarci tutti. Noi sinceramente abbiamo comunque sempre stati operativi perché comunque avevamo in mente di cambiare anche il menù eccetera e ci siamo focalizzati un po' sulle nuove proposte, un po' su queste proposte qui che abbiamo idealizzato per i clienti. Noi giochiamo molto sulla materia prima e attualmente di pesce ce n'è veramente tanto del nostro mare e quindi si può giocare bene sui sapori e assolutamente sulla qualità.